Bentrovate e bentrovati da Elvira Naselli della redazione di Salute. Oggi parliamo di diete, il periodo è quello che è, quindi diciamo l'obiettivo è dimagrire prima dell'estate. Parliamo in particolare di una dieta che ha alla sua base la pasta. Sembra uno simoro, ma scopriremo che così non è e ce lo spiegherà la dottoressa Elisabetta Bernardi, che ringrazio di essere qui con noi, nutrizionista dell'Università di Bari. Professoressa, sembra uno simoro in linea con la pasta, e poi perché fredda? E poi perché fredda? Allora, diciamo che una delle migliori diete anche per dimagrire è la dieta mediterranea, quindi anche nel caso della perdita di peso ha dimostrato di essere molto efficace. Una dieta mediterranea senza pasta, insomma, non ha proprio senso. Allora, la pasta può essere utile per i regimi dimagranti, soprattutto se si tengono in mente alcune cose fondamentali. La quantità! La quantità, esattamente. La quantità che deve essere, diciamo, in linea con il proprio fabbisogno energetico, ma generalmente se ci si ferma agli 80 grammi, quelli consigliati come porzione proprio della pasta standard, quindi possiamo... poi è chiaro che magari se si deve dimagrire e si è donna, allora si può andare anche sui 60 grandi, quindi prima di tutto le porzioni. Poi preferire la pasta integrale perché aggiungiamo fibra e questo significa anche fornire all'organismo non soltanto la fibra, ma anche un maggiore senso di sazietà e quindi si riesce a mangiare meno. Cioè la pasta integrale sazia di più? La pasta integrale sazia di più. Poi la pasta condita con gli ortaggi. Se noi utilizziamo delle grandi quantità di ortaggi, per esempio 250 grammi da crudo o un sugo di pomodoro fresco che siano almeno 100 grammi, vediamo che aumenta il volume e quindi aumenta anche il tempo in cui si consuma la pasta e in questa maniera aggiungiamo anche delle sostanze particolarmente preziose per la salute e può essere anche uno stratagemma appunto per arrivare al senso di sazietà e non esagerare. Adesso però ci deve spiegare perché è fredda. Mangiare la pasta fredda è un trucco perché che cosa si è visto? Si è visto che quando la pasta fornisce energie grazie all'amido, l'amido quindi anche alle proteine ha un 10% di proteine, comunque soprattutto grazie all'amido. L'amido è formato da due molecole, l'amilosio e l'amilopectina, che sono delle specie di granuli tipo dei gomitoli di lana. Quando vengono cotti questi granuli si sciolgono, entra l'acqua all'interno, si gelatinizzano e diventano più morbidi e più digeribili. Quando si raffredda l'amilosio tende a riallinearsi e a tirar fuori l'acqua. Questo riallineamento modifica la struttura per cui diventa quello che si chiama amido resistente, che si comporta in ugual modo che la fibra, ma anche apporta meno calorie. Apporta due calorie contro le quattro apportate dall'amido. Non tutto l'amido si trasforma in amido resistente, però buona parte. Quindi consumare la pasta fredda è una buona strategia per ridurre il contenuto di calorie. Una cosa importante è che la pasta non sia troppo cotta, quindi la pasta al dente raffreddata contiene più amido resistente. Ed è anche più digeribile? Ed è anche più digeribile. Senta, e se questa pasta fredda si volesse, adesso capisco che è una domanda che forse ha poco senso col nostro incontro, ma se si volesse invece riscaldare, quindi diciamo in qualche modo utilizzare gli avanzi o addirittura cucinare in funzione degli avanzi, come facevano le nostre nonne, facevano le frittate di pasta con la pasta avanzata. Adesso non dico magari la frettata, perché forse aggiungerebbe calorie, ma se si volesse semplicemente un po' scaldare la pasta, migliorerebbe e manterrebbe questi vantaggi? Strano, ma vero, ma migliorano. È proprio una ricerca fatta nel 2020, pubblicata sulla prestigiosa rivista Foods, conferma che loro hanno messo a regime diciamo 45 individui facendoli mangiare, quindi pasta calda, pasta fredda e pasta riscaldata. E poi hanno misurato la glicemia all'intervallo di 10 minuti per due ore. Quello che si è visto è che il massimo della crescita della glicemia c'è con la pasta calda, con la pasta fredda c'è una diminuzione dell'aumento della glicemia, ma con la pasta riscaldata questa diminuzione è ancora maggiore. Quindi vuol dire che nella pasta riscaldata la quantità di amido resistente è maggiore. Quindi non si riforma l'amido originale, ma si forma ancora più l'amido resistente. Quindi potrebbe andare bene anche per chi o è diabetico o comunque diciamo è in una fase di prediabete? Potrebbe andare bene perché appunto ha un indice glicemico decisamente più basso, sia la pasta fredda che la pasta riscaldata, ma può andare bene per ognuno di noi, perché comunque contribuisce al nostro fabbisogno di fibra, che è di 25 grammi e che è difficile da raggiungere. Invece appunto con queste strategie possiamo aiutare. Significa poi dare il nutrimento preferito ai batteri che abbiamo all'interno del nostro intestino, quindi al microbiota intestinale. E questo porta numerosissimi vantaggi in termini di salute. Senta dottoressa, ma quindi per perdere peso, che è l'obiettivo diciamo di tutti in questo periodo dell'anno, che tipo di regime alimentare utilizzando la pasta fredda si può ipotizzare? Nel senso, facciamo un esempio, per esempio donna in pre-menopausa che vuole perdere qualche chilo prima dell'estate. Come può utilizzare la pasta fredda? 60 grammi intanto? Sì, 60 grammi, soprattutto se non si abbina a un'attività fisica, che è sempre consigliato comunque nei regimi dietetici, perché con la sola dieta è molto più complicato. Quindi 60 grammi condimenti a base di ortaggi, olio controllato, nel senso un cucchiaio al massimo, e questo si può fare anche tutti i giorni, cioè si può mangiare anche la pasta tutti i giorni, a pranzo o a cena, se si preferisce. Indifferentemente. Indifferentemente, se per esempio si ha problemi, perché questo è un aspetto molto comune nelle donne in menopausa e pre-menopausa, quello di non avere facilità al sonno oppure di appunto svegliarsi nel piano della notte, insomma si è visto che invece preferendo l'assunzione di pasta la sera, questo facilita anche il sonno e quindi può essere anche quella una strategia. Chiaramente la dieta deve essere equilibrata, quindi equilibrata sia dal punto di vista delle calorie, non esageriamo con i condimenti grassi, con gli alimenti troppo ricchi di grassi, però insomma anche privilegiamo le proteine magre della carne, del pesce, delle uova, o anche abbinare per esempio i condimenti a base di legumi. I legumi sono, anche essi forniscono amido e anche essi, se mangiati freddi, hanno la capacità di fornire amido resistente. Quindi è le insalate di legumi? Per esempio le insalate di pasta e legumi, oppure di cereali come l'orzo, il farro e i legumi, questo potrebbe essere anche dei piatti estivi molto interessanti per chi vuole stare a dieta. Senti, quindi diciamo 60 grammi di pasta condita o con legumi, piuttosto che con verdure, in modo da utilizzare anche, da cercare di raggiungere quelle porzioni al giorno che nessuno riesce a raggiungere, le cinque famose, la dieta mediterranea, i frutti e verdura, possono essere considerate un pasto unico o no? Ma io alle persone che vogliono dimagrire, di solito consiglio di suddividere un po' un pasto completo in due pasti. Questo perché è molto più facile, poi uno non si mette a preparare primo, secondo, contorno, frutta, insomma, alla fine diventa un po' complicato anche seguire una dieta. Invece decidere che in un pasto si mangia la pasta, e in un altro, magari più una componente proteica, alternando carne, pesce, uova, formaggi e legumi. In questo modo possiamo, insomma, preparare un piatto unico, alla fine diventa un piatto unico, che comunque è completo dal punto di vista anche dei nutrienti che apporta. È saziante. È saziante. Anche perché aggiungendo 200 grammi di verdura, anche l'occhio, c'è un impatto visivo che può essere soddisfacente. Abbiamo ancora pochi secondi. Parlava lei prima di attività fisica. Ecco, a parte, diciamo, quella nelle palestre, eccetera, che pochi magari riescono a seguire con costanza. Che intendiamo? Intendiamo la camminata quotidiana a passo svelto. Quella dovrebbe essere proprio essenziale, perché il nostro organismo si è sviluppato appunto in tempi in cui era fondamentale muoversi e adesso che si ritrova seduto otto ore al giorno comincia appunto ad avere degli scompensi dal punto di vista della salute. Quindi camminare, cercare di alzarsi ogni ora dal posto appunto anche di lavoro, sgranchirsi e camminare o passeggiare mettendosi proprio le scarpe da ginnastica, non fermandosi a vedere la vetrina, cioè cercare di fare un'attività che almeno per un quarto d'ora, 20 minuti, sia continuativa. Così almeno in questo caso si fa esercizio fisico. Chiaro. La ringrazio. Grazie alla dottoressa Elisabetta Bernardi, nutrizionista dell'Università di Bari. Grazie a voi per averci seguito. Grazie a voi.